Nokia Asha 303, un telefono touch and type perché ha il display touch, ha la serie 40 a bordo, in più ha una tastiera QWERTY. Comodo da tenere in mano, dimensioni contenute, cpu da 1 GHz, 3G e Wi-Fi compresi, vi faccio vedere come sono finiti i vari lati, fotocamera da 3.2 megapixel, qua in fondo la griglia per iliva voce, cover posteriore metallica, filetture interessanti per un device che sarà proposto sul mercato intorno ai 130 euro e disponibile sia Angry Birds che sarà quindi implementato sulla serie 40 e disponibili anche cover in silicone di diversi colori.